e quindi c'è c'è stata la missione e in questa scidenti e c'è stata la missione in questa in questa trasmissione scusate ecco qui scusate non è la mia stanza e certo c'è un gran pasticcio e e quindi in buona forma e in buona in buona forma ovviamente stanco stanco solo per problemi di reddito e quindi è già la seconda volta che c'è stata che c'è stata la missione e quindi e qui c'è stata la missione quindi di responsabilità e quindi è la seconda volta e quindi con stefi e quindi con stefi